ciao amici sono luca colombo sono qua in mezzo a tutte le mie chitarre e vorrei farvi i migliori auguri per questa fantastica manifestazione di percoto canta gestita da tantissimi amici tra cui cito il mitico raffaele chitarrista e collega con cui spesso ci si scambia informazioni chitarristiche abbiamo a che fare per le lezioni e vi faccio i migliori auguri in bocca al lupo spaccate tutto rock n roll